Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo mukbang o in qualsiasi modo si pronunci questa parola dietro di me vedete la cosa del gatto d'ever immancabile per questa tipologia di video che è... Ciao amore mio, ciao amore mio e potete ben vedere anche che dietro di me c'è una montagna di scatoloni perché praticamente, come sapete, tra pochi giorni mi trasferirò nel mio appartamento e quindi sto vivendo nel casino più totale ed è una tragedia perché tutto quello che mi serve è già in scatolato e praticamente vivo di stenti con quelle poche cose che io molto furbamente ho lasciato fuori dagli scatoloni ma ancora per pochissimi giorni, insomma io mi sono portata avanti in realtà devo ancora in scatolare tutta la cabina armadio, quasi tutta, ho in scatolato un po' di scarpe tutta la cabina armadio e... ma intanto vi dirò che cosa ho ordinato stavolta stavolta abbiamo la coca zero... abbiamo la coca cola normale che ho davvero capito, cioè non è che se urli ti arriva qualcosa da notare, come ho detto preciso, che lì hanno due ciotole piene di crocchette i miei gatti quindi non è che sono affamati, ok? penso si veda anche dalla... cioè... dalla magrezza che non sono affamati, ok? allora oggi ho ordinato cinese perché mi sono fissata e sto guardando un sacco di video di Veronica Wang Wong? come si pronuncia? non lo so, comunque lei è famosissima per i suoi mukbang e lei mangia spessissimo questi noodles, questi spaghetti cinesi insomma e quindi ho deciso di ordinarli anch'io praticamente quando vedo qualcosa, ok? dietro uno schermo specialmente poi gli prende la voglia e mi metto... e voglio mangiare esattamente quello che... ah ok, no, questo non c'entra... questo è un'altra cosa che ho preso allora, forse i noodles sono questi tra l'altro mi sento come se fossi a scuola perché con questo banco altissimo perché ho preso un puff in modo da poter stare nell'inquadratura perché non so mai trovare un'inquadratura decente allora, noto con grosso dispiacere che ho ordinato i noodles con... faccio vedere ho ordinato i noodles con i gamberetti e qui c'è insalata che io detesto carote, cipolla ma non vedo un gambero manco a pagarlo oro quindi questo purtroppo... ah sì, ok, un gambero c'era cioè, vabbè, io la odio sta cosa, ok? cioè, quando ordini spaghetti con i gamberi tu ti aspetti spaghetti con i gamberi non tutto il resto, però vabbè, vedremo di in qualche modo togliere gli estranei del piatto e vedo, vedrò di mangiarlo in modo quasi decente, perdonatemi ma questo è veramente veramente un fail perché io, cioè, è la cosa peggiore che poteva capitarmi ragazzi perché io detesto l'insalata ok, voi probabilmente non ci credereste mai ma io ho appena passato mezz'ora della mia vita ragazzi e non sto scherzando e vi mostrerò le prove di ciò subito io ho passato mezz'ora della mia vita a togliere tutti i pezzettini anche i più minuscoli pezzettini di insalata e di cipolla da questi noodles perché quando vi dico, e ho notato su Instagram in molti non lo sapevate ragazzi ma io detesto l'insalata, ok? io ho fatto questo quiz e in molti avete sbagliato questa risposta io detesto l'insalata, non mi sembra una cosa commestibile non mi è mai sembrata una cosa commestibile forse perché in prima elementare ho avuto una specie di trauma cioè i miei mi mandavano a questo doposcuola e uno degli educatori praticamente mi aveva aperto la bocca mi aveva con la forza ficcato in bocca sto boccone di insalata e io da lì sono rimasta letteralmente, perché i miei genitori non mi hanno mai obbligato mentre mi è successo questo doposcuola io sono rimasta letteralmente traumatizzata e quindi non riesco a vedere l'insalata come cibo non la mangio, non l'ho mai mangiata, non la mangerò mai e non sto scherzando quando vi dico che ho passato mezz'ora della mia vita a togliere tutta l'insalata e tutta la cipolla dal piatto perché ragazzi con le bacchette io ho tolto tutto, tutto questo lo so che è cibo, lo so che non andrebbe detto che una cosa ti fa schifo eccetera eccetera però raga ed è tantissima ma ragazzi quando vi dico che una cosa non mi piace proprio non mi piace non esageravo quando vi dicevo che non riesco a concepire l'insalata come una cosa commestibile invece tutte le altre cose che vi ho scritto su Instagram cos'era? Zucchine, olive e non mi ricordo cos'altro le altre cose le mangio tutte poi oltre a questi noodles che non prenderò mai più senza specificare ho preso anche le chele di granchio che vi farò vedere subito lo so che sono fritte ma ragazzi sono buonissime io amo le chele di granchio e credo che non sia nemmeno granchio ma una specie di altro pesce però ragazzi sono troppo buone spero riusciate a vedere il cibo e poi ho preso non so che cosa fosse sinceramente ma mi ispirava dal menù e sono gamberi e patate anche se sembra pelle di pollo e adesso che l'avete visto non potete non vederlo sono patate e gamberi alla griglia e chissà se sono a fuoco queste cose che io vi faccio vedere ho i miei dubbi comunque spero siano decenti ho preso solo le bacchette tra l'altro non mi hanno manco dato le bacchette cioè ma che ristorante è? boh vabbè oggi appunto non abbiamo la coca zero ma abbiamo la coca normale perché io ho anche il frigo vuoto oltre ad avere la casa vuota cioè piena di scatoloni ma vuota per tutto il resto e quindi ho ordinato e non avevano la coca zero si è vero come al solito noi nel mukbang ci metto un sacco di iniziare a mangiare ma ragazzi e vi dicevo che che se becco un pezzetto di insalata mio dio comunque vi dicevo che adesso mi sono fissata sto guardando un sacco questi video di Veronica Wong boh e mi piace un sacco ma ragazzi come fa? l'ho vista mangiarsi sei pacchi di noodles in una volta cioè com'è umanamente possibile a parte che lei è magra è anche questo com'è umanamente possibile perché anche a youtube me lo vedo a mangiarsi sei pacchi di noodles però non è perfettamente in forma cioè senza essere cattivi comunque scusatemi il cellulare comunque devo dire devo dire che per fortuna non sanno di insalata né di cipolla perché avevo paura che il sapore potesse ricordarmi invece no sono molto molto buoni lo so che a volte mi dite che i miei versi quando mangio sono un pochino osceni e che forse dovrei smetterla però ragazzi mi godo il cibo proprio praticamente oggi ho mangiato no boh ho mangiato un panino all'ora di pranzo e basta oh mio dio un pezzo di cipolla togliamo questo alieno scusatemi lo so che io con il cibo sono un po' strana ma è così non ci posso fare niente mia mamma mi ha sempre detto che avrei cambiato gusti quando sarei diventata adulta penso che stia ancora aspettando che ciò succeda ma non credo che succederà più mamma scusami non così non so capire come lei possa mangiare così tanto so che la tecnica è di mangiare molto velocemente in modo che il tuo stomaco non dia il segnale al tuo cervello che dicono che sei sazio e quindi tu riesci a boffarti un sacco però fa veramente veramente paura quanto mangia lei cioè non so se avete mai visto i suoi video ma dateci lo che ha detto cioè è una roba è pazzesco è pazzesco ma non sono riuscita a trovare gli spicy noodles altrimenti li avrei presi per questo mukbang di oggi che avevo proprio voglia di noodles e lei ha sempre questi spicy noodles che sono super super piccanti e voglio assolutamente provarli anch'io ma dove posso trovarli non credo ci sia un posto in cui si possono trovare l'Italia vero insomma ovviamente dipende da città città Nicole buongiorno però mi piacerebbe forse in un supermercato avete qualcosa da consigliarmi qualche marchio consigliatemi comunque devo dire ho praticamente esaurito gli scatoloni quindi stasera volevo prepararne altri ma in realtà non ho più scatoloni vuoti da riempire e sto aspettando che me ne portino degli altri e e sono molto molto contenta che finalmente finalmente tra tipo una settimana non roba del genere finalmente trasloco ragazzi e sono anche molto contenta che finalmente abiteremo insieme con Eric perché abbiamo fatto tutti questi mesi di avanti e indietro avanti e indietro e finalmente insomma è una cosa che mi rende felice tra l'altro stavo vedendo perché oggi probabilmente cioè anche sicuramente voi questo video vedrete lunedì credo sì lunedì perché poi ne filmerò un altro ma credo questo lo manderò prima quindi questo video lo vedrete lunedì e per voi sarebbe già passato qualche giorno perché l'ho caricato oggi che è sabato il video con Eric in cui vi raccontiamo come ci siamo rincontrati e voglio ringraziarvi perché leggevo i madre mia sei bellissimo leggevo i commenti che mi avete lasciato che ci avete lasciato e sono al 99% davvero super positivi e vi ringrazio tanto vi ringrazio tanto anche perché questo secondo me incoraggia anche Eric magari a farsi vedere un po' di più perché potete immaginare ragazzi per me ovviamente credo che ci sono letteralmente tre gambe in tutto ciò ma vabbè per me ovviamente è molto semplice nel senso che io sono abituata sono dieci anni che ho la videocamera puntata addosso in qualsiasi momento della mia vita praticamente quindi io non ci faccio più caso per me è la normalità la mia quotidianità però invece per Eric non è così quindi mi fa molto piacere che si presti e se il fatto che ci siano commenti così positivi che insomma sicuramente aiuta e fa tanto piacere amore mio lui comunque di solito se li legge tutti i commenti mi fa anche ride perché è super curioso ma io gli dico spesso che se ci sono commenti un po' così non deve farci caso eccetera ma lui ride tipo comunque questo è letteralmente tutto ciò che mi rimane in cucina non ho più nulla cioè ho svuotato tutto 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 quanto i lavori nella casa mia sono fatti ho fatto il parquet anche se le macchie non sono andate completamente via del ragazzo che ci abitava che vabbè ragazzi non commento nemmeno ma tipo lui in un anno e mezzo quasi due anni non un anno e mezzo che ha vissuto nel mio appartamento praticamente non ha mai pulito nulla e quindi il pavimento era una cosa agghiacciante cioè quando sono andati per ridipingere ritinteggiare tutto quanto lo scotch dei teloni non si appiccicava da nessuna parte perché era tutto pieno di polvere con uno strato così c'è una tragedia e quindi faccio prima di entrarci ovviamente faccio pulire l'appartamento molto bene a fondo ehm sì è allucinante sta cosa però in realtà non sta a me giudicare la pulizia sua perché chi se ne frega insomma lui può vivere come preferisce però a volte la sporcizia fa cioè può provocare danni e così come può provocare danni tanta acqua lasciata sul pavimento e perché poi si formano delle macchie e queste sono molto profonde nel mio pavimento il rovere nuovissimo che è costato un sacco e quindi adesso c'è questa macchia molto grande in soggiorno poi un'altra ne è rimasta in corridoio che non se ne vanno praticamente perché sono troppo profonde quindi con la pulizia è una leggera non raschiatura ma una leggera sì appunto pulizia con il spazio eccetera sono rimaste e mi hanno sconsigliato di andare a fare una raschiatura eccetera perché rischierei alla fine di cioè di solito si fa sui pavimenti vecchi e casa mia è stata completamente ristrutturata quando io l'ho comprata quindi tipo due anni fa quindi no ormai mi sa tre anni fa ragazzi wow però per farvi capire il discorso e quindi mi sconsigliano di fare tutta una raschiatura perché poi devi fare tutta la stanza il mio perché è nuovo quindi sarebbe un po' peccato quindi per adesso comunque sono molto contenta hanno finito oggi di rintinteggiare tutte le pareti e quindi basta pulire l'appartamento e ovviamente traslocare prima trasloco poi faccio la pulizia e poi finalmente finalmente ah mi posso trasferire ci possiamo trasferire sarà molto interessante vedere come reagiranno quattro gatti assieme ma vi ho promesso che avrei filmato tutto ciò e quindi lo farò comunque sono davvero molto molto contenta del feedback positivo scusate continuo a togliere pezzettini di insalata non so se avete notato quanto io mi arrabbio quando mi sbagliano gli ordini che in realtà non è un ordine sbagliato è solo che io non sapevo che gli spaghetti giapponesi o spaghetti cinesi cos'erano spaghetti cinesi contenessero insalata cipolla e carote boh vabbè le carote le mangio però e uovo poi c'è di tutto due gamberette di numero e tutto il resto vabbè tra l'altro nel video che abbiamo filmato con Eric non abbiamo perché cioè abbiamo spiegato tutto quanto come è andata quando ci siamo rivisti eccetera eccetera come eccetera però io avevo detto si tu mi hai contattato per andare e mi hai chiesto di bere un caffè di prendere un caffè assieme poi io gli ho risposto no guarda se vuoi facciamo la cena di classe con tutti i compagni eccetera e come è successa sta cosa perché mi avete scritto ma lui cioè non aveva mica il tuo numero no mi aveva trovato su facebook questo era adesso non ho più un account comunque se vi cercate non mi trovate c'è un account ma io scusate c'è un account ma lo uso solo per tenere sulla mia pagina pubblica però non è il mio facebook quindi se mi aggiungete comunque ero arrivata a 5000 amici che è il massimo non posso più aggiungermi anche comunque però all'epoca avevo facebook e quindi è di che mi ha contattato sostanzialmente perché no non aveva ovviamente il mio numero di telefono io non avevo il suo ragazzi non fate caso al mio trucco perché non so come mai ma oggi non sono riuscita a a sfumare bene il fondotinta con il correttore continuo ad avere il naso rosso e il correttore non si è sfumato affatto non ho ben capito il perché perché di solito quel correttore che è quello della NYX in vasetto mi piace ma oggi un disastro secondo gambero sono piena di peli di Denver come al solito secondo gambero che io ho trovato in questo piatto e questo è il terzo si sono sprecati veramente però sono molto molto buoni questi noodles devo dire la verità voglio prenderli ancora sono molto molto buoni non capisco perché non li abbiano chiamati solo noodles ma spaghetti giapponesi o spaghetti cinesi boh molto molto buoni non è mio la tastellina non lo so dove prima c'era e adesso probabilmente si è ritirata nei suoi appartamenti sapete che lei ha molto bisogno delle sue privacy e dei suoi momenti per se stessa detto Devil non ha mai bisogno di momento per se stessa sempre qua sta comunque in molti dopo il video che abbiamo girato con Eric mi avete scritto che non mi avete mai vista così felice innamorata quindi sono molto felice anche io non lo sono mai stata così quindi devo dire che avete ragione avete visto giusto e mi avete detto che era destino evidentemente perché se siamo stati all'elementare e all'asilo assieme poi ci siamo persi ma in qualche modo abbiamo trovato il modo di rivederci e poi è stato cioè penso che appunto abbiate ragione la vedo anch'io così e in più intanto assaggiamo anche il resto magari e in più in più quando ci siamo visti beh io ovviamente posso parlare per me ma poi lui mi ha detto che è stato uguale anche per lui eccetera quando ci siamo rivisti è stato come se non ci fossimo mai lasciati cioè erano passati tipo vent'anni eppure cioè confidenza tranquilli proprio come se ci fossimo visti ogni giorno è stato veramente strano una cosa che io non ho mai avuto cioè non mi è mai successo stranissimo e poi sì è stato divertente perché lui ha scoperto di essere nel mio libro ma manco io lo sapevo cioè in realtà sfogliavo il mio libro e l'ho visto e poi mi sono ricordata che sì avevo messo effettivamente una foto dell'asilo troppo forte mia mamma mi racconta che in asilo voleva sempre stare vicino a me ma le maestre ci dividevano perché io tipo lo lo rifiutavo gli dicevo no vai via vabbè cose da bambini piccolissimi ma era super dolce questa cosa infatti mia mamma in tutti questi anni molto spesso quando guardavamo gli album delle fotografie dell'elementario dell'asilo eccetera e vedeva Eric mi diceva sempre che ragazzo dolce che ragazzo speciale che era Eric che ragazzo speciale che era Eric oh quanto era carino infatti si era sempre comportato molto bene a parte quando quella volta mi ha detto che Babbo Natale e San Nicolo non esistono che non è così sappiatelo però lui mi ha detto così e mi ha fatto rimanere già malissimo c'è niente da fare le chele di granchio sono pazzesche comunque sto aspettando altre novità sto aspettando che lunedì mi portino altri scatoloni in modo da poter finire di impacchettare tutta la cabina armadio ci vogliono anche degli scatoloni speciali per poter appendere tutti gli appendini eccetera e poi devo finire di impacchettare perché in realtà la cucina pensavo di averla finita poi mi sono ricordata che ho anche tutti i piatti tutte le pentole e posate e bicchieri cioè prima di mettere ho ancora tutta la cucina ok no voglio fare un mega mega di plattering perché ho veramente tante cose che magari non uso e che potrebbero servire magari a qualcuno e io invece le tengo là così che è un vero peccato comunque ragazzi inquadratura e illuminazione in questo video non so come siano ho una luce del mio studio e due luci gialle invece normali quelle della stanza quindi comunque dovrete abituarvi a non vedermi più in questa casa che vi devo dire con i rumori che sento non mi dispiace nemmeno tanto comunque ho un po' paura di provare queste patate gamberi grigliati perché non lo so le patate sembrano un po' strane vediamo un po' sono tutte appiccicate forse dovrei prendere una forchetta ma quando ordino cinese ragazzi sacrilegio io non posso mangiare con la forchetta in realtà è buono però è strano perché c'è una specie di salsa un po' piccante poco poco che non li conosco non è così male non le riconosco se ci fosse meno salsa sarebbe meglio però non sono niente male il fatto è che appunto quando ordini cinese mi sembra un po' un incognita perché ci aggiungono sempre un sacco di salsa e non sai mai che sa che teriyaki questa però è piccante esiste la salsa teriyaki piccante? non lo so sono tipo quelle domande che ti fai alle 6 di mattina che vai a cercare su google le robe più assurde tipo esistono i panda senza occhiaie niente niente male va bene non so nemmeno da che ristorante ho ordinato era tipo il primo che aveva i noodles cioè avevo questa voglia pazzesca di noodles che ragazzi io tutta la vita quando vedo qualcosa in tv vedo la pizza ho voglia di pizza vedo noodles ho voglia di noodles vedo che ne so cinese ho voglia di cinese vedo sushi ho voglia di sushi è una cosa più forte è una cosa più forte di me infatti in tanti mi scrivete che quando guardate mi mukbang vi viene voglia di mangiare quello che mangio io vi capisco completamente vi capisco tanto 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 ci sono siti dove vendono bicchieri glitter tipo questo però ha altre tonalità di rosa perché vorrei tanto prenderne altri potete farmi sapere se lo sapete grazie penso sempre di mangiare molto male in questi video cioè faccio delle facce assurde e non mangio per niente con eleganza che non mi piace affatto però ragazzi quando faccio questi video ho sempre una fame da lupi e poi mi avete chiesto come fai a mangiare così tanto e non ingrassare allora uno fidatevi che c'è chi fa peggio tipo Veronica Wang ok o meglio a seconda di come li vedete i mukbang numero due non mangio di solito così tanto però quando faccio i mukbang è perché tipo non sono riuscita a mangiare niente tutto il giorno quindi ho una fame terribile e quindi mangio tanto però di solito non è proprio così comunque ho fatto il filler al labbro superiore tipo ragazzi non sto scherzando io penso un anno e mezzo fa e sto durando ancora non capisco come sia possibile perché tipo il primo che ho fatto mi era durato mi aveva formato in realtà tipo dei come dei piccoli piccoli pallini piccoli nodi all'interno e la prima volta che sono andata non mi sono trovata molto bene perché avevano hanno usato una siringa intera su di me ed era l'unica volta che non me l'ha fatto la mia amica dermatologa Valentina peraltro che poi grazie al cielo ha iniziato lei però la prima volta mi sono trovata tanto bene perché mi hanno iniettato troppo 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 acido ialluronico si era tipo come fermato in alcuni punti e ci ha messo parecchio ad andare via ma solo quei punti lì il resto penso dopo sei mesi già era svanito non mi ricordo che prodotto avessero usato però ho usato tre prodotti diversi la seconda volta invece mi sono trovata molto molto bene con la mia amica Valentina grazie al cielo adesso il filler me lo può fare solo lei se la cercate Valentina Salamone Trieste cercate Valentina Salamone Trieste dermatologa e l'ha trovata insomma nel suo studio appunto fa anche il filler la seconda volta io è molto più brava perché lo fa in due volte per non esagerare appunto perché non si fa meno questi grumi che non mi veniva però a grumi però penso che avessi usato comunque un prodotto che non doveva durare tantissimo perché anche lì dopo sei mesi otto mesi l'effetto se ne è andato e adesso invece dopo poi ha cambiato prodotto e mi ha detto questo dovrebbe durare di più però poi cambia persona a persona cambia da persona a persona e tipo infatti cioè mi sta andando molto bene perché appunto un anno e mezzo ho sentito di un apparecchio che tipo vibra una roba che ti distrae dal dolore mentre fai il filler ma voi ne avete sentito parlare esiste davvero sto cosa devo dirvi che e poi ragazzi non ve l'ho fatto vedere perché l'ho messo subito in frigorifero quando mi è arrivato ma ragazzi ho preso anche il profiterol bianco ebbene sì infatti che bisogna sapere che se io ingrazio la colpa sarà tutta di Eric perché mi porta a mangiare tutte le robe cioè praticamente mi porta alla colazione a letto e io dico non portarmi niente colomba al cioccolato non mangio nulla e mi praticamente mi mette in bocca pezzi di cioccolato quindi è colpa sua adesso mi vedete ingrassata colpa sua in realtà il profiterol l'ho ordinato adesso che lui non c'è quindi in realtà è anche colpa mia che goduria è una fame terribile comunque sì dicevo devo ancora inseritare cucina praticamente intera cabina armadio e alcune cose della camera da letto tipo asciugamani lenzuola e cose del genere e non ho tantissimi giorni per farlo purtroppo ma se mi portano gli scatoloni lunedì poi insomma qualche giorno ce l'ho quindi dovrei farcela in frattempo cerco di anche se farà impossibile finire tutto ciò ragazzi esagerano seriamente con i condimenti cioè ci sono litri e litri di salsa forse un po' esagerato tra l'altro dopo questo video vorrei filmare anche un nuovo draw my life perché mi sa che sono passati anni da quando ho filmato l'ultimo e vorrei filmarlo da un'altra prospettiva cioè dalla me di oggi da come vedo oggi le cose perché poi anche se ovviamente alcuni fatti successi nella vita alcune cose che ti sono accadute rimangono le stesse magari la visuale è un po' diversa e poi in realtà vabbè sono passati anni e sono cambiate tante cose da quando ho filmato l'ultimo draw my life ma tutto appiccicato ma secondo me potrebbe essere interessante rifarlo e voglio rifarlo senza andare a vedere necessariamente quelli cioè quello che avevo fatto prima perché non vorrei essere influenzata da come vedevo le cose in quel momento quindi secondo me è interessante vabbè io direte ragazzi seriamente ce la faccio più ho lasciato un bel po' di questo sarà probabilmente il mio pranzo domani no i peli di gatto da me non mi danno fastidio me lo chiedete sempre c'è sempre una percentuale di persone no ragazzi sono abituata non mi danno assolutamente fastidio cioè io probabilmente mangio chili di peli ma che cosa ci devo fare vivo con due gatti tra l'altro devo spazzolare i gatti io dimentico cioè ho già inscatolato la spazzola dei gatti che sarà da qualche parte là sotto ma andiamo a prendere il profiterol sono l'unica che quando inizia a cenare già pensa al dolce cioè è una roba è più forte di me è più forte di me in molti mi avete chiesto come si chiama il mio libro perché all'epoca nel 2015 non mi seguivate ancora e si chiama kiss and makeup ragazzi quindi lo trovate su Amazon e nelle librerie forse bisogna ordinarlo a questo punto perché appunto era uscito un po' di tempo fa mmm ma è con i soli se invece già mi seguivate nel 2015 vi amo e oggi mi ha scritto una ragazza su Instagram che ve lo dico ragazzi anche se non vedete visualizzato o letto non so come io ho Instagram in inglese anche se non clicco su accetto ogni volta io comunque i vostri messaggi privati li leggo questa ragazza mi ha scritto che mi segue da quando lei era la mia 51esima iscritta tipo non vi ho fatto vedere il profiterol eccolo qua ragazzi spero sia decente l'inquadratura sicuramente fuori fuoco mamma mia e mi ha fatto un'emozione enorme pensare che cioè lei mi segua ancora sono a fuoco sicuro sì mi ha fatto un piacere enorme il fatto che uno che ancora sia mia follower dopo tutti questi anni ragazzi perché a fine agosto sono dieci anni che sono su youtube due mi ha fatto molta terenza il fatto che si ricordi ancora il numero e che insomma dopo tutto questo tempo si è ancora lì a scrivermi probabilmente come tanti di voi ancora ma fatemi sapere questa cosa mi interessa come mi avete scoperto quanto tempo fa o circa se non vi ricordate esattamente ovviamente non saprete il giorno il mese l'anno ma circa che anno era come avete trovato i miei video perché state continuando a seguirmi o cosa avete pensato di me quando mi avete visto il video per la prima volta cosa avete pensato dopo che magari mi avete conosciuto un po' vedendo tanti tanti miei video perché mi seguite insomma mi interessa sta cosa non lo so mi piace interagire ragazzi non c'è cosa più buona ne approfitterò io lo amo non mi hanno messo la panna però c'è tantissima crema in compenso mi piace un sacco interagire anche su instagram ci sono questi quiz le domande eccetera mi piace sempre farvi domande e sapere come le ha pensato perché non mi piace mi piace youtube mi piacciono i social proprio perché ci può essere uno scambio no quindi posso parlare con voi e vedere le vostre risposte cosa che ovviamente in tv non si può fare e quindi è bellissima questa cosa mi piace anche il fatto che ci siano questi quiz adesso su instagram se non mi seguite ancora su instagram mi trovate o come kiss and make up 01 oppure con il mio nome e cognome che ovviamente è lo stesso che trovate qua sul canale Nicole Husser sono talmente abituata a fare lo spelling ragazzi del mio cognome hotel udine savona empoli di ivorno perché altrimenti lo sbagliano tutti sbagliano tutti a volte mangio quella bocca pina cioè proprio senza ritegno troppo buono la cosa più buona è questa crema che ricopre il bignè paradisiaca comunque si voglio fare un nuovo draw my life e vedremo un po' che cosa ne viene fuori le avete scorse quando ho fatto il draw my life qualche punto me l'ero diciamo preparato adesso non l'ho fatto quindi voglio un po' vedere dove mi porta l'onda anche se sono veramente negata io non so disegnare comunque continuate a mandarmi le vostre idee per un tatuaggio perché come vi dicevo nelle altri video voglio fare un tatuaggio per i miei insomma in occasione del mio primo decimo per il mio decimo compleanno su youtube voglio farmi un tatuaggio piccolino ma che sia un tatuaggio che ricordi che insomma faccia pensare al mio percorso su youtube che mi ricordi voi che mi ricordi questa non che mi ricordi ma che voglio stamparmi praticamente voglio che sia un ricordo indelebile perché comunque questi dieci anni sono state una grande grande parte ovviamente della mia vita e voi siete importanti per me lo siete stati dal primo giorno ma dopo dieci anni sono molto affezionata ai miei followers alla mia family e quindi voglio dedicarle un tattoo ma vorrei che lo sceglieste voi vorrei che mi mandaste le vostre idee magari uno schizzo un disegno o qualcosina che avete trovato su internet ve li mandate su instagram e come al solito c'è il link a solito pure mi trovate come vi ho appena detto e poi valuterò insomma mano a mano con le entry e poi sceglierò quello che mi piace di più e lo tatuerò l'importante è che sia piccolino ragazzi perché non mi piacciono i tatuaggi grandi non lo farei mai uno grande piuttosto tantissimi ma piccolini quindi ecco un design che sia appunto che si possa fare piccolino e poi qualcosa che ricordi che rappresenti me il mio canale qualcosa che mi ricordi di voi una cosa così no vabbè i vostri commenti all'ultimo video sono qualcosa di speciale mi sembra di capire che eric è entrato nel cuore di tutti nel primo istante non vi dico la serenità che trasmettete in questo video oh dire che dite quello che volete ma questo eric mi piace veramente tanto se vede che siete felicissimi insieme e lui è veramente dolcissimo siete veramente troppo belli insieme mi emoziona guardarvi vi auguro tanta felicità sì e questa poi c'è un altro commento effettivamente sappi che ti adoro adoro il fatto che lo guardi con gli occhi innamorati sinceramente mai visti da quando ti seguo sono felice per te per eric vi auguro una vita felicissima siete fantastici insieme però c'è un commento tra tutti questi che mi dice Nicole però non so se siano le luci ma credo che il fondotinta che indossi in questo video proprio non vada bene con il tuo colorito che carini che siete effettivamente hai ragione non so perché ma è un periodo che ragazzi ho tutti i fondotinta che uso anche quelli che ho sempre usato prima e che erano giusti come colore adesso cioè tutto ad un tratto sono gialli non capisco se sia dovuto al fatto che sto cambiando io carnagione cioè sto diventando sempre più una mozzarella il che è veramente preoccupante cioè non capisco forse il fatto che l'anno scorso l'ho passato praticamente tutto alle Maldive e quindi ero sempre abbronzata non c'è non so veramente perché sì essendo c'è stata tre volte evidentemente appena l'apprendatore se ne andava tornavo però vi giuro che tutti i fondotinta sono troppo scuri su di me non so più che fondotinta provare perché cioè quello Diego Dallapalma Givouchi i più chiari L'Oreal sono tutti tutti troppo oscuri oppure il colore giusto sono un pochino troppo gialli e non so più che cosa fare sto pensando di tornare su quelli MAC perché il colore più chiaro della tonalità NW su di me che è la tonalità rosata su di me è perfetto almeno lo era forse non lo è più però lo era e almeno so che ho il colore giusto per me però i fondotinta MAC non mi sono mai piaciuti cioè mi piace tutto di quel brand praticamente ma i fondotinta ni è anche vero che non ne provo uno tipo dal 2015 quindi fatemi sapere magari più che altro consigliatemene qualcuno molto chiaro rosato e per le pelli miste perché la mia pelle tende comunque a lucidarsi durante la giornata ok credo che per oggi possa bastare ragazzi sono stra stra piena adesso credo andrò a registrare il Drew My Life vorrei continuare ad scatolare roba ma non ho più scatoloni come vi dicevo e quindi questo è quanto per oggi ultimo sorsetto di Coca Cola è strano perché di solito la differenza tra la Coca Zero e la Coca Cola normale mi dà fastidio questa mi sembra molto più zuccherata troppo dolce oggi però avevo talmente tanta voglia di Coca Cola e avevo talmente tanta come si dice lo sapete che io sono dipendente della Coca Cola Zero quindi qui c'era questo bisogno di Coca Cola che non mi sono nemmeno resa conto che fosse più zuccherata del solito comunque questo è quanto per questo Mook Bang Mia Family voglio solo ricordarvi che leggo sempre tutti i vostri commenti qualsiasi cosa mi scriviate sia in privato che pubblicamente anche se siete in tantissimissimissimi ragazzi comunque leggo tutto quello che mi scrivete l'unica cosa perdonatemi perché a volte lo so che ci rimanete male ma se non vi rispondo è solo perché voi siete tipo un milione e io sono solo una ok pensate che i miei video vengono visti 2-3 milioni da 2-3 milioni di persone al mese quindi è veramente difficile se non impossibile stare dietro e riuscire a rispondere lo facevo inizialmente quando avevo un seguito molto più piccolo lo facevo inizialmente rispondevo ad ognuno però è diventato ormai da molti anni è diventato impossibile io sono felicissima che sia così perché ovviamente sono felicissima che siate così in tanti ma non riesco a rispondere a tutti però ricordatevi sempre che io leggo tutto quello che vi scrivete quindi qualsiasi cosa vogliate dirmi scrivetemela se non vi rispondo comunque sappiate che non lo faccio apposta ma vi leggo ok quindi è sempre importante per me ripeterla questa cosa perché magari a qualcuno penso che possa sfuggire e voglio che si sappia e quindi la ripeto e la ripeto e la ripeto e scusatemi se in questo video appunto il mio make up è terribile e dietro di me c'è questo casino bestiale ragazzi ma forse c'è anche l'eco in questo video perché praticamente è tutto vuoto ma abbiate pazienza sono gli ultimi giorni in questa casa dopodiché in casa nuova cercherò di sistemare le cose abbastanza in fretta spero di riuscire ma almeno non ci saranno più queste montagne di scatoloni almeno non a lungo quindi non per tanto e quindi vi mando un bacio grandissimo mia family grazie per avermi fatto compagnia in questo mukbang non voglio mai salutare che mi continuo a parlare ma so che vi faccio compagnia quando fate colazione quando pranzate quando cenate questo mi fa molto molto piacere anche voi fate compagnia a me quando magari appunto Eric lavora e io sono qui a cenare da sola quindi vi ringrazio tanto e in realtà da brava youtuber che non esce mai di casa invece di uscire il sabato sera io filmo mukbang e adesso filmerò un draw my life ma ragazzi business oriented no in realtà sono troppo picca per uscire comunque questo è quanto mia family vi mando un bacio grandissimo vi voglio bene a presto ciao 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 ciao